Testa coda allo stadio Rechi, il Salerno Calcio, primo in classifica, ospita il fanalino di coda Atletico Bovil. Mister Perrone rilancia nella formazione titolare Ciro De Cesare al posto di Proia, confermati gli under Puglisi, Sestito, Avaiano e Giacinti. Munar gioca a centro campo. Avvio di gara di marca giallo-rosso-blu, il Salerno Calcio prova subito a mettere in difficoltà l'avversario. Pressing alto da parte degli uomini di Perrone, recupera palla Montervino. Un'occhiata al centro, si smarca sulla destra De Cesare che riceve calcia in porta. Il rompe biancolino per il tap-in vincente di testa. Il pitone segna il suo ventesimo gol stagionale, anche se come al solito per la giustizia sportiva sono solo 18 per la querelle di Bacoli. Il pitone e De Cesare danno vita ad una esultanza a dir poco particolare. 1-0, 4 minuti sono trascorsi e il Salerno è già in vantaggio. Partita che si mette in discesa, guai a distrarsi però. Sestito comunque tiene alta la guardia, buona ruscita su taglia la tela, pallone in calcio d'angolo. L'inquadratura larga mette in evidenza lo schieramento tattico del Salerno Calcio. Sempre pronto a pungere in contropiede. De Cesare va sul fondo, tiro cross che termina sull'esterno della rete. Ancora un'azione pericolosa. Nel replay si può notare come al centro dell'area, biancolino, metta male la caviglia, quella destra, e si fermi. Inizia a saltellare, problema fisico dunque per l'ex attaccante dell'Avellino, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Dopo un paio di minuti però il pitone dice stop, al suo posto entra Chiavaro in panchina, viene sottoposto alle cure del caso Raffaele Biancolino. Salerno Calcio che dunque cambia spartito tattico, si torna al 3-5-2 visto la scorsa settimana con Munar libero di svariare tra le linee. Lancio lungo di Chiavaro, palla per Caputo, il portiere Palladinelli deve uscire per evitare conseguenze peggiori. Munar fa girare, Montervino, Caputo, Munar va nello spazio, Montervino lo serve con i tempi giusti, Munar sbaglia soltanto la conclusione, bellissima l'azione del Salerno Calcio, ragionata, era uno schema. Infortunio anche per l'attaccante centrale dell'Atletico Boil, Farruggia, duro contrasto con Puglisi, l'attaccante della formazione laziale alla peggio, al suo posto entra Dallarmi. Sulla sinistra si fa vedere Davide Avaiano, uno contro uno con taglia la tela, Avaiano se ne va, entra in aria ma viene fermato dall'ottimo intervento in tackle scivolato alle spalle dell'avversario. Ruba palla a centro campo, Munar con decisione, poi allarga subito per Caputo, alza la testa Caputo e serve in profondità. Lo stesso fantasista transalpino, pallone per De Cesare che supera il portiere col sinistro in sacca, 2-0 per il Salerno, grande esultanza per Ciro De Cesare. Rivediamo il tocco sotto per superare il portiere, poi con il sinistro riesce a trovare la traiettoria giusta per infilare alle spalle del portiere, la combinano grossi anche i difensori del Bovil. Poi l'abbraccio con Perrone, con tutti i compagni di squadra, grande soddisfazione per Ciro De Cesare, ancora a segno alla Rechi. Fanno festa anche i tifosi sul 2-0, la gara sembra avviarsi sui binari favorevoli alla formazione salernitana che non smette di attaccare. Avagliano in profondità per Munar, affrontato da un avversario, Munar rientra sul destro, servizio per Caputo. Tunnel ai danni di un avversario che poi riesce a rinvenire. Tentativo di reazione da parte del Bovil, tiro da dimenticare per Frioni. Calori, stoppa il pallone con la coscia, Caputo in fuorigioco, deve tornare sui suoi passi, viene servito al momento giusto da Calori. Rientra sul sinistro Caputo, slalom del fantasista giallorosso-blu, sbaglia soltanto la misura del cross. Nuova palla recuperata da Munar, che gioca alla Seedorf, così come gli ha chiesto di fare Perrone. Bella la sventagliata per aprire il gioco sulla destra per Max Caputo. Entra in area Caputo, bravissimo! Palla di Nelli a toccare il pallone quel tanto che basta per deviarlo in calcio d'angolo. Dalla bandierina del corner De Cesare tenta la battuta diretta. Si salva il portiere della formazione laziale, De Cesare all'indietro per Montervino. Scambio ravvicinato con Munar. Montervino assist per Chiavaro che in scivolata anticipa il 17 dall'armi ed insacca il gol del 3-0. Era qualche settimana che ci provava. Finalmente riesce a trovare la via del gol. Il primo con la maglia del Salerno Calcio per Agatino Massimo Chiavaro, entrato dalla panchina. Gol con Dedica alla moglie Marzia in tribuna. Poi il 5 con Perrone. Soddisfatto per la prima marcatura. In giallo-rosso-blu Chiavaro. 3-0 per il Salerno Calcio. De Cesare sul filo del fuorigioco. Prova a superare il portiere, va a terra. Ora l'arbitro lascia giocare. Finale di tempo con il Salerno ancora proteso all'attacco. Munar rientra sul destro. Una finta. Se ne va Munar. Slalom gigante completato col dribbling sul portiere. E il pallone depositato fino in fondo al sacco da parte del Transalpino. Grandissimo gol. Uno dei più belli della stagione. Undicesima perla per David Munar in questo campionato di Serie D con il Salerno Calcio. Rivediamo la serpentina dell'ex giocatore del Gallipoli che arriva fino sulla linea di porta per toccare il pallone col sinistro. Poi bello anche l'abbraccio con Polani, uno dei giocatori meno impiegati in questo campionato. 4-0 già nel primo tempo per il Salerno Calcio. Partita chiusa virtualmente ma non si accontenta la squadra di Perrone. Ora gli attaccanti cercano di far segnare anche Caputo. Si va al riposo col Salerno avanti di 4 gol. I tifosi che inneggiano alla tradizione sugli spalti saranno sicuramente soddisfatti anche Lotito, Mezzaroma e De Luca. Ad inizio ripresa Sbaccanti prende il posto di Montervino che alla vigilia era in dubbio a causa di un affaticamento muscolare. Se ne va sulla sinistra di prepotenza, Avaiano arriva sulla tre quarti il terzino salernitano. Pallone al centro anticipato all'ultimo istante De Cesare. Il corner seguente, la battuta a rete di Caputo. La sfera arriva a Munar che colpisce il palo ma era fermo il gioco a causa di un offside segnalato dal guardaline. Fuori giubilato dentro l'anni, problemino anche per l'esperto difensore della formazione salernitana. Si fa vedere anche il team ospite con questo tiro dalla distanza di testa. Uno degli ultimi ad arrendersi. Caputo prova addirittura di potenza ad andare via. Ad un avversario guadagna un calcio d'angolo il fantasista del team giallo-rosso-blu. Dalla bandierina lo stesso Caputo per Sbaccanti che trova il tempo giusto per colpire di testa ma non riesce a segnare. Giacinti pallone in verticale. Era per Munar sulla sfera va invece Ciro De Cesare che era in posizione irregolare. Doveva disinteressarsi del pallone qui il toro di Mariconda. Dribbling secco di De Cesare. Tocco con l'esterno delizioso per Caputo che non aggancia la sfera. All'indietro per l'anni il traversone di prima intenzione. Tocco delizioso di Ciro De Cesare per il 5-0. Il toro di Mariconda festeggia con i suoi concittadini. Rivediamo il bel cross di Marco Lanni. E poi delizioso, incantevole, il colpo di testa con cui De Cesare mette fuori causa il portiere dell'Atletico Bovil. Poi festa anche con la Tigre della Nuova Guardia. 5-0. Prima doppietta con la maglia del Salerno Calcio per Ciro De Cesare. Ancora testa, stavolta su calcio di punizione. Chiama all'intervento Sestito che ci mette i guantoni e si rifugia ancora in calcio d'angolo. Lanni sulla destra, palla all'indietro per De Cesare. Spettacolare il suggerimento per Caputo. Il tocco con il sinistro di Caputo. Il palo gli nega la gioia del gol. Deve ancora iscriversi nel tabellino Max Caputo. Nuovo show personale per Munar. Pallone al centro, ancora a cercare Caputo. Ma la sfera non arriva a destinazione. Arriviamo così al 42esimo minuto della ripresa. De Cesare ancora birra in serbatoio. Va sul fondo. Cross al centro. Caputo di testa! Riesce a segnare il gol del 6-0. Set chiuso in favore della formazione salernitana. Caputo dice non segno di piede, segno di testa. Ma come si fa? Rivediamo il cross dal fondo del toro di Mariconda. Caputo che riesce ad anticipare l'avversario e affreddare il portiere sul palo più vicino. 6-0. Non a rete stagionale per Max Caputo che naturalmente poi va a ringraziare l'assistman di questa circostanza. De Cesare, dopo tre minuti di recupero, l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Claudicante, ma soddisfatto, Perrone si avvia negli spogliatoi. Applausi reciproci tra i giocatori del Salerno Calcio e i tifosi salernitani presenti sugli spalti della Rechi. Mattatore a fine gara, così come durante il match. Ovviamente, Ciro De Cesare, il padrone di casa.